Sono il professore Joan Maria Senente, professore qui in Facoltà di Filosofia e Cienti dell'Educazione in Università di Valenza. Lo scopo è presentarvi, primo Emiliano Labruccio, co-direttore della associazione Nemosine, che è una associazione accreditata per il mio e il Ministero Italiano dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università per la formazione dei docenti. Noi abbiamo tra l'associazione Nemosine e l'Università un convegno da 4 anni già per fare un dottorato in educazione attraverso il programma di dottorato di questa facoltà. E' come qua, 4 anni fa, che i primi studenti di dottorato sono venuti e sono adesso sul punto di cominciare a presentare le diverse tessi dottorali. Per noi è stata senza dubbio tutta un'avventura di fare un dottorato con docenti stranieri, ma allo stesso tempo abbiamo visto, perché praticamente tutti loro sono i docenti di secondaria, che per noi è anche molto interessante come adattare un dottorato che abbiamo per i nostri studenti qua in facoltà ai docenti che vengono da un altro paese. Per voi, dal punto di vista di Nemosine, cosa significa questo dottorato? Sicuramente un motivo di crescita per noi è stata una nuova sfida, perché come è noto il sistema di reclutamento intanto in Italia per accedere al dottorato è un sistema molto chiuso, quindi avevamo la necessità, perché essendo un ente che si occupa della formazione, in particolare dei docenti, di trovare un'offerta formativa valida in una nazione diversa dall'Italia per ampliare questa offerta formativa, cioè il mondo della ricerca. Abbiamo analizzato i vari sistemi dei paesi diversi rispetto all'Italia e quello che abbiamo trovato molto vicino al nostro è molto simile per struttura, perché comunque tutti oggi riceviamo il Real Decreto 99 2011, è molto simile per struttura al dottorato italiano, con la differenza fondamentale che, pur essendo un dottorato a numero chiuso, ma un numero di posti un po' più ampio, quindi potevamo procedere con questa idea che era l'internazionalizzazione. Questa è stata la prima scelta. La seconda è perché comunque riteniamo molto validi a livello internazionale, sono molto accreditati i dottorati spagnoli in ambito educativo, diciamo che sono molto apprezzati in generale in Europa. Diciamo che la combinazione di questi fattori ci ha portato a cercare nuove soluzioni in Spagna. Ecco, chiaramente riteniamo molto validi quelli dell'Università di Valencia, ecco perché ci siamo avvicinati così tanto, grazie al professore Gioammaria e Sus Suarez, a questa nuova avventura. Anche da noi questo è stato veramente una sfida, ma diciamo che nella linea di internalizzazione che l'Università di Valenza tenta di incoraggiare dopo qualche anno la sfida di fare un dottorato con studenti estranieri è che ha la stessa struttura del dottorato di educazione che noi abbiamo con gli studenti di qua. Loro devono fare diversi corsi durante i tre anni di dottorato, cominciano con un corso in Palermo e dopo loro vengono qua tre, quattro volte all'anno per fare corsi qua e per fare interviste con il suo tutor, con il suo direttore e seguide. È stato per noi anche una certa scoperta, perché diciamo che in Spagna i docenti della secondaria non è frequente che allo stesso tempo ci siano professionali. Noi abbiamo trovato in questo dottorato gente che viene della giurisprudenza, dell'architettura, dell'ingegneria e che allo stesso tempo sono docenti di secondaria e che pertanto diciamo che hanno una doppia situazione. Sono docenti, ma allo stesso tempo sono avvocati, sono ingegneri e hanno una visione un po' diversa dello studente di grado e di master da noi, che ha una visione più concentrata sull'educazione. Sappiamo anche, e questo lo sappiamo anche dal principio, che voi avete anche convegni con altre università pubbliche spagnole e che siete facendo questo dottorato con altre università. e pertanto questa esperienza delle altre università che avevano già cominciato, quando noi abbiamo cominciato, allo stesso tempo ci ha un po' incoraggiato a seguire questa avventura. Ma io credo che sia stata una sfida che a distanza di molti anni, ormai dalla data di inizio, possiamo dire che è stata una bella sfida. E siamo sempre stati convinti, la filosofia della struttura di Minnemosin in generale, è sempre stata quella che i bei risultati possono venire solo dalle sfide, perché allinearsi al sentito comune è molto semplice, ma per noi non è stimolante. Sicuramente, come dire, la figura media del dottorando, quello che per l'Università di Valencia è un dottorando, ma che nella vita reale è un docente, come detto normalmente di scuola superiore, diciamo che questo ha un fondamento, cioè la carriera di docente in Italia, che sia primaria, infanzia, scuola secondaria, è normalmente una carriera molto stabile, perché io stesso sono un docente, se so io la mia disciplina è diritto, quello che dovrei fare il primo giorno di docenza, farei l'ultimo giorno della mia carriera come lavoro. Quindi diciamo che non ha una prospettiva, non ha veri stimoli di progredire. Questo invece ci dà, intraprendere questo percorso dottorale altamente formativo, ci dà fondamentalmente due nuove prospettive. Uno che è quella della crescita professionale, cercando di aspirare a fare il dirigente scolastico, non più il docente. Quindi dal punto di vista della crescita e del cambio delle mansioni all'interno del sistema scuola. L'altra è che, anche se dovessimo restare docenti, questa nuova esperienza unica nel percorso accademico, nel percorso di studi di ognuno di noi, ci dà la possibilità di vedere il nostro lavoro e di utilizzare strumenti, metodologie, approcci molto diversi che fino ad allora non conoscevamo. Ecco perché noi puntiamo molto nell'internazionalizzazione, perché mettere a confronto sistemi educativi diversi e in questo caso specifico il sistema educativo italiano con il sistema accademico spagnolo ci dà la possibilità di avere una visione del nostro lavoro diverso, quindi di poter spendere le nostre competenze a scuola in maniera diversa. E anche perché io credo che la formazione del dottorato è stata molto complementaria della formazione che come professionisti avevano loro, perché noi abbiamo lavorato durante il percorso di tre anni di formazione sulla pedagogia, sulla didattica, sulle nuove tecnologie in educazione e diciamo che noi abbiamo lavorato dal punto di vista psicopedagogico e didattico e che quello complementava un po' questa formazione che come professionista aveva ognuno di loro. Allora diciamo che cominciamo una nuova sfida che è la sfida finale del dottorato, è dire che la formazione è finita e i primi dottorandi devono cominciare questo corso già a depositare la tesis e fare la difesa della tesis dottorale, no? E questo bisogna, diciamo che è una nuova avventura perché ci ritroviamo situazioni diverse che non è la situazione abituale del nostro dottorato in educazione e che allo stesso tempo chiede un po' situazioni diverse come soluzione per quello. Io credo che anche per noi questa nuova tappa finale del dottorato sarà veramente interessante per vedere come facciamo davanti a una situazione che non è la stessa situazione del nostro dottorato. Sì, è vero. Anche se noi riteniamo, reputiamo che la difesa della tesis è, come dire, dal punto di vista accademico la fine di un ciclo, quindi la fine della stesura della tesis, ma che rappresenta un nuovo inizio nel ritornare nel proprio mondo che è il mondo della scuola e spendere le competenze acquisite in questo percorso dal punto di vista pratico. Perché se è vero che abbiamo intrapreso un percorso dal punto di vista accademico veramente stimolante che ci ha fatto crescere, poi l'esigenza, l'emozione di ognuno di noi è tornare a scuola per spendere le nuove competenze acquisite. Quindi io credo che... Allo stesso tempo hanno avuto l'occasione un po' di conoscere non solamente, diciamo, un periodo di formazione, sino anche, diciamo, l'Università di Valenza e anche la propria città di Valenza, perché io ricordo che il primo anno, nei primi corsi, gli ho detto l'Università venne di universalità e pertanto non potrebbe essere tre, quattro anni da noi e non conoscere un po' l'Università e perciò io spero che tutta questa conoscenza sia complementaria al suo percorso. Assolutamente. Diversità in generale noi riputiamo sempre che sia un arricchimento reciproco, quindi io credo che sia stata e sia una bella esperienza e per noi dal nostro punto di vista ma anche per l'Università di poter sperimentare questa nuova strada che è stata, sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo avuto durante questi anni ma è stata io credo fino ad oggi una bellissima esperienza che ci dà modo di pensare che cresceremo tanto insieme. E in tutto caso ci permette di pensare a nuove esperienze. Assolutamente sì. a Grazie a tutti.